Tempo di scelte per il Pescara. La prossima settimana il presidente Daniele Sebastiani scioglierà le riserve per i ruoli di direttore sportivo e allenatore. Per quanto riguarda le panchine, Grassadonia spera nella conferma. Ma nella lista dei candidati entra anche Gigi Yervese, protagonista dello splendido successo del campionato Primavera 2 al timone dei Baby Biancazzurri. Non sarebbe una scelta sorprendente dal momento che in passato la società ha promosso in prima squadra ben sei allenatori della Primavera negli ultimi 11 anni. I nomi di Francesco, Bucchi, Oddo, Epifani, Zauri e Le Grottaglie. Ma tra i papabili ci sarebbe anche Cristian Bucchi che è stato tecnico della Primavera del Delfino dal 2012-2013 e anche della prima squadra. Durante la stagione al posto di Cristiano Bergodi in Serie A per il ruolo di direttore sportivo fortemente in bilico Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Resistono invece le candidature di Luca Matteassi che ora è al Modena e della pescarese Armando Ortoli.